A puntamento con l'informazione di prima mattina, sono le 7 e un minuto, siamo in diretta sul canale 17 di Fano TV, c'è Occhio ai giornali, la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno con i giornali che abbiamo selezionato per voi, le pagine che abbiamo selezionato per voi, dal resto del canale, dal Corriere Adriatico, come sempre però prima andiamo a vedere il Santo, oggi è San Bruno, facciamo gli auguri a tutti coloro di buono nomastico, a coloro che portano questo nome, il sole sorgerà tra pochi minuti, alle 7 e 11 e tramonterà le 18 e 41, andiamo subito a vedere il tempo. Questa mattina andiamo a dare uno sguardo anche al radar, in questo istante, come vedete da Acu Weather, la situazione dove sta piovendo in questo momento, allora il verde, dove è colorato di verde sta piovendo, dove è colorato di giallo sta piovendo forte, quindi la situazione si può già vedere dove Macerata, Corridonia, Porto Sant'Elpidio, la parte sud della nostra regione in questo momento è interessata dal maltempo, un'animazione che parte dalle 5 del mattino fino appunto alla situazione attuale. Adesso invece vediamo le previsioni, come sempre dal sito della Protezione Civile delle Marche, questa è l'immagine in movimento, l'animazione grafica per la giornata di oggi, avremo piogge sparse appunto nella prima parte della giornata, come vedete insistenti nei settori interni per divenire a carattere di rovescio temporale, localmente intenso nelle zone collinare e costiere, nel pomeriggio contemporaneo esaurimento dei fenomeni in serata, ma domani si ricomincia con altra pioggia, piogge diffuse e continue anche a carattere di rovescio temporale, con cumulate areali elevate, quindi molto abbondanti a fine periodo, cioè a fine giornata al suolo avremo tanta acqua, poi diffuse ancora nella giornata di venerdì, piogge nelle zone interne anche a carattere di rovescio temporale, sparse lungo la costa, i fenomeni si attenueranno nel pomeriggio, il miglioramento probabile insomma all'inizio della settimana prossima, ma ci attendono, giornate davvero umide con tanta acqua. Iniziamo allora, vediamo subito i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, edizione di Pesero, tema d'apertura, la criminalità, guardia alta contro le mafie, titolo allarme per le infiltrazioni dell'Andrangheta dopo l'arresto dei killer dell'omicidio di Natale, gli operatori economici dicono nel sistema ci sono gli anticorpi, la politica, vigilanza e più sicurezza. Centropagina, ABBA la stazione per i ciclisti, progetto approvato dalla Giunta, sotto revenge porn e violenza, il FERT finisce in tribunale, una liaison clandestina tra imprenditore e segretaria. Ora, ritorno sempre alla carica, insomma un anziano che ha una cultura media che si trova a leggere un titolo di questo genere, secondo me ci capisce ben poco, insomma si usano termini dall'inglese al francese con tanta disinvoltura, quando sarebbe molto più semplice farsi capire che la cosa è minimo sindacale. Il caso delle RSA, nuova semivuota, questo è il titolo invece d'apertura del Carlino. A Villa Fastigi la Cive si attende ancora all'accreditamento per 50 posti letto, così gestione insostenibile. Poi Bruzzese, i sicari cambiarono piano, l'obiettivo era un altro. Stalking in condominio, panni a fuoco, cappi in cortile, i vicini terribili. Poi un'infermiera, anzi scusate la fotonotizia, un cantiere dietro l'altro, c'è questo boom per il 110%, quindi tanta gente che vuole ristrutturare approfittando di questi bonus. Allarme però degli edili, qui si vedono ditte mai viste prima, dicono appunto le persone intervistate dal giornale. Poi il caso infermieristica, la regione boccia l'intitolazione a Gino Strada, sul vecchio Palace appesero poche settimane per il tetto, i lavori ormai sono in dirittura di arrivo. Se Soliti ripicche, lei chiede i danni per 180 mila euro, l'imprenditore e la dipendente. Poi il Fano che torna in Abruzzo, si riparte dal quattordicesimo minuto, l'arbitro si infortunò oggi di nuovo in campo. WL sotto i riflettori, c'è l'esordio di Larsson, stasera la sfida contro la squadra di Trieste. Andiamo però adesso a pagina 3 del Carlino di Ancona, perché c'è un'altra notizia di cronaca. Tenta di uccidere la moglie e si accoltella, non accettava la richiesta di separazione, un dramma familiare a Maiolati Spontini, la 35enne gravissima e lotta tra le vite e la morte. Lui è stato portato nel carcere di Montacuto, la scena terribile davanti ai due figli, ora affidati in stato di sciocca ad una zia, in casa una situazione altalenante per la coppia. Stiamo parlando di questa coppia, lui 47enne, origini tunisine, operaio di una ditta del posto, è stato portato poi in ambulanza al pronto soccorso del torrette, qui è piantonato. La donna invece 35 anni, anche lei di origini tunisine, che ora si trova in condizioni disperate all'ospedale regionale di Torrette. Il report dello sportello Donne Giustizia, sempre più giovani le vittime di violenza. Accoltella la moglie dopo la lite, colpita al torace è gravissima, questo è il titolo invece del Corriere Adriatico, sciocca Moie, tunisino arrestato per tentato omicidio. Si è tagliato al collo, in casa c'erano i figli ragazzini. Un altro racconto di una storia che per fortuna è finita bene, l'ho presa per mano, poi l'abbraccio, lei era salva, abbiamo pianto insieme, è il racconto di Martina Pigliapoco, la carabiniera di Osimo che ha evitato il suicidio ad una mamma. Quando sono finalmente riuscita ad avvicinarmi, le ho preso la mano e l'ho afferrata, appena scavalcata la rete del ponte. Ci siamo sciolte in un abbraccio strettissimo, abbiamo pianto insieme. Allora, la scena è questa, se riuscite a vederla da casa. Ecco, la donna che è stata per un po' di tempo appesa lì sul ponte, voleva farla finita, e la carabiniera di Osimo, invece seduta, che ha iniziato questo lungo dialogo insieme a lei, questa trattativa per far desistere la donna dal lanciarsi dal ponte. Ed è questa l'immagine, il primo piano della carabiniera Martina Pigliapoco, che racconta al giornale un po' come sono andate le cose. Per la 25enne, quattro ore di trattative sul ponte tibetano di Perarolo nel Bellunese, decisiva la telefonata ai familiari, ho capito che dovevo far leva sui figli per aprire una breccia. Ecco, questo è il racconto, il fatto è avvenuto, come dicevamo, nel Bellunese, però trova spazio questa notizia anche sul Corriere Adriatico, il giornale delle Marche, perché la carabiniera appunto è di Osimo. Sotto invece vi segnalo questa testimonianza che pubblica il Corriere Adriatico questa mattina. Il disperato appello di Taffo, lui dice sto male, sono solo, aiutatemi. Lancia sui social un video nel quale rivela che tre giorni dopo aver fatto il vaccino anti-Covid ha iniziato a stare male, al punto che a tre mesi di distanza non riesce a deglutire quasi più niente. A lanciare un disperato appello è questo tifoso osimano, Tony Taffo, 48 anni, figlio del Barone, compianto e storico supporter dell'Osimana. Il 5 luglio racconta, ho fatto il vaccino Pfizer, l'8 luglio ho iniziato gradualmente a soffrire di disfagia e anemia, non riesco a gestire più saliva e nemmeno a dormire, ho preso, anzi ho perso, tanti chili e non posso più lavorare. Da due mesi mangio solo brodo, mi sento solo, ho disperato bisogno di un medico che mi aiuti e questo appello è stato in qualche modo accolto da un avvocato che è l'avvocato Giulio Dori che adesso lo ha preso, che si è assunto l'onere di aiutare umanamente questa persona in difficoltà sul suo impegno per le persone che si battono contro il Green Pass a Giulio Dori, questo avvocato dice, riceviamo una decina di richieste di aiuti ogni giorno, anche di medici e di insegnanti che si sentono vessati da questo obbligo a lavoro. La mia è una battaglia di libertà, non politica, non sono un Novax, mia figlia l'ho vaccinata. Indagato Galli, virologo star, favoriva i suoi candidati, famoso, conosciutissimo, molti italiani pendono ancora dalle sue labbra, Massimo Galli 70 anni, primario di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, ebbene favoriva i suoi candidati. Adesso è indagato, il guru della battaglia al Covid è accusato anche di associazione a delinquere, lui dice sono tranquillo, nelle contestazioni non ci vedo niente di particolare, però insomma questa è la notizia di oggi, questo virologo star deve in qualche modo adesso insieme ad altri 23 colleghi interloquire coi magistrati milanesi da indagato, accusa falsità materiale commessa da pubblico ufficiale. E poi c'è anche un altro concorso sotto la lente, quello per l'assunzione di un professore di ruolo di prima fascia, a chiamata, vinto da Gian Guglielmo Zender, Galli e un altro docente avrebbero allontanato potenziali candidati, predisponendo un bando che potesse esaltarne il curriculum. Palpeggia la dipendente, lei chiede 180 mila euro, siamo a pagina 8 del resto del Carlino, un imprenditore risponde anche di stalking e di porno vendetta, ecco questa è la versione italiana di revenge porn, per l'invio di foto hard al fidanzato della donna, ha chiesto di patteggiare, l'imputato ha confermato di aver inviato messaggi per ripicca al rivale. Da Vallefoglia invece, ancora cronaca, con il motorino contro un'automobile, è successo ieri pomeriggio all'ingresso di Sant'Angelo Invado lungo la strada statale 73bis a causa di un brutto incidente che ha visto coinvolto un 14enne rimasto seriamente ferito dopo lo scontro tra questo motorino sul quale viaggiava e un'autovettura, un episodio che è avvenuto intorno a metà pomeriggio alle 5 e un quarto, alle 17 e 15. Mai più lanterna azzurra, regole più severe per i locali, la regione studia norme sul divertimento sicuro, un'assicurazione obbligatoria anche per gli eventi. L'assessore Latini, l'assessore regionale, ha incontrato il sindaco Olivetti, il sindaco di Senigallia e la presidente del Cogeo Bucci, mentre sempre da Senigallia è arrivata una telefonata da parte di una donna di 86 anni, appunto, di Senigallia che è convinta che il marito abbia ingaggiato delle persone per ucciderla e quindi la pattuglia è dovuta intervenire ieri mattina in questo condominio, insomma, al vivere verde per tranquillizzarla, per dirle che insomma deve stare tranquilla, ma lei si è convinta di essere in pericolo e in alcune giornate addirittura evita di uscire di casa, insomma, e questa è una notizia che trova spazio sul Corriere di oggi, sulla pagina di Senigallia. Tornando invece al Carlino di Pesero, la città avvolta da centinaia di ponteggi, il super bonus 110% impazza in tutte le vie. L'assessore all'urbanistica, Nobili, dice abbiamo 800 pratiche in più rispetto al 2020 e dobbiamo aumentare il personale degli uffici. Credo che sia una misura rivoluzionaria e assolutamente da cogliere per migliorare il patrimonio edilizio ed energetico della città. Questa è una pagina, poi ce n'è anche un'altra dove si parla in particolare invece delle ditte che sono arrivate a Pesero dal nulla, ditte che non si conoscevano, che non si conoscono, molti sono stranieri, ma ecco, fanno un po' un'analisi di quello che sta succedendo da questo punto di vista. Poi invece a Fano, Rocca Malatestiani, il flop delle telecamere, malgrado la videosorveglianza, non diminuiscono vandalismi e spericolatezze. Residenti esasperati, è stata gettata una bici anche sui binari. Ora, chi conosce la zona sa benissimo di cosa stiamo parlando, le mura della Rocca Malatestiana, vedete questa terrazza che si affaccia sulla parte, diciamo, più verso il mare della città, sotto passa la ferrovia adriatica e molti ragazzi, molte persone, insomma, annoiate che non sanno cosa fare, si divertono a buttare oggetti e vedete qua c'è questa bicicletta, forse adesso si vede meglio, ecco questa bicicletta che è stata buttata letteralmente giù, insomma, poteva finire sui binari e quindi provocare anche seri danni. Taglio radicale degli oleandri, restiamo affano, proteste a Sassonia, ma Aset difende l'intervento sostenendo che va eseguito così ogni dieci anni e invece ogni anno ci ritroviamo sempre con persone che si indignano per come vengono tagliati potati, alberi e quant'altro. E comunque, Urbino, la pagina di Urbino del resto del canale di oggi, ieri come ricorderete il giornale aveva anticipato la notizia con un'intervista al cevescovo Tani che la diocesi potrebbe accorparsi a quella di Pesaro, oggi interviene Giorgio Londei e dice scongiurare l'accorpamento della diocesi, interviene sugli organi del Vaticano, Urbino ha una sua realtà storica importante che ci deve proiettare verso il futuro. Mi auguro che il Santo Padre ci ripensi perché la città merita un'eccezione. È curioso come la politica adesso si interessi anche di cose del Vaticano, insomma, sono quelle cose, il mondo ormai va tutto al contrario per cui ci dobbiamo fare l'abitudine ormai su queste cose. Allora, sulla pagina invece di Urbino del Corriere Adriatico, Feduzzi, geografia di un trionfo. Parliamo delle amministrative vinte dal sindaco uscente, quindi riconfermato. Feduzzi che parla appunto di questo, analizza questo voto che praticamente per lui è andato molto bene perché ha preso voti praticamente ovunque, in tutti i quartieri. Mentre sotto l'altra notizia è che è stata trafugata una statua, una statua della Madonna, una statua che tra l'altro è stata spezzata pure alla base e c'è un appello del presidente della proloquo metaurense, Sandro Pesaresi, che dice che quella statua era lì da tantissimo tempo. Stiamo parlando della statua in ricordo della Madonna di Lourdes che si trovava nel santuario del Pelingo e adesso chiede che venga restituita. Dalla Val Metauro Berloni, mi chiedo se è un sogno, Berloni è il nuovo sindaco di Fossombrone che si è già insediato, ieri c'è stato un primo incontro politico con il suo vice Chiara Billi, la stessa maggioranza del governo Draghi, 40 anni fa qui si anticipò il compromesso storico. Sotto invece da Colli al Metauro ce l'abbiamo fatta superando una fase difficile, la soddisfazione di Briganti eletto per il dopo Aguzzi, Mascarucci trascinante. Andiamo adesso invece sulla pagina della Val Cesano dove da Mondolfo la giunta guidata ancora da Barbieri per i prossimi cinque anni, anche lui è riconfermato con un risultato straordinario, tra una settimana ci sarà la nuova giunta, dicevo tre conferme, due volti nuovi, il sindaco rieletto con un plebiscito ringrazia gli elettori e dice che tra dieci giorni ci sarà già il primo consiglio comunale. Ecco invece i neo assessori papabili per Zenobi, Zenobi è stato riconfermato sindaco di Mondavio, il primo cittadino ha riavuto la fiducia con un ampio margine sullo sfidante. Pronto soccorso allarme rosso invece torniamo a Senigallia, se ne vanno altri cinque medici, l'assessore regionale Saltamartini dice che la situazione è generalizzata, c'è carenza di personale, via il numero chiuso da medicina e basta con l'uso improprio del reparto emergenze. Poi il bar dell'ospedale va a marce ridotte, tutti i giorni resta aperto fino alle 15 e la domenica invece è out. Anche distributori off limits per i familiari dei degenti. Quindi out of limits, ok a Guanagana. Andiamo avanti. Senigallia, il Giamborì resta qui, ora incontro in regione, il sindaco Livetti a un anno dal suo insediamento traccia i temi più importanti per Ponte Garibaldi, dice il sindaco, fondi solo per la demolizione. Poi ruba sotto gli ombrelloni, un fatto che è accaduto la scorsa estate, è stato condannato a dieci mesi, era stato individuato subito dagli uomini dell'arma, anche grazie alle telecamere degli stabilimenti. Si tratta di un 23enne di Maiolati Spontini che era stato fermato dai carabinieri. VL invece, siamo alla pagina dello sport, due pagine soltanto dello sport, intanto il basket, VL Trieste per ripartire, Jolly Larson, Petrovic e il posticipo di stasera, voglio vedere intensità, possibile tagliare in quintetto, anche Drell ha recuperato. Dunque oggi si torna in campo, questa è la notizia, c'è il posticipo della seconda di andata all'arena e all'arena arriva Trieste e quindi alle 20 e 30, se non ho letto male, ecco qua, VL Pesaro Trieste, ore 20 e 30, insomma anche questo sarà emozionante, soprattutto per chi ci sarà. Castelnuovo Fano invece si riparte dal tredicesimo minuto perché la partita, ricorderete, era stata interrotta a Pineto a causa di un problema al polpaccio, all'arbitro che ha dovuto dare forfè, anche io uso qualche parolina così, ma comunque ha dovuto rinunciare al proseguimento della gara perché aveva questo problema alla gamba. Alle 15 dunque si torna a Pineto, si ricomincia da una rimessa laterale, la partita è interrotta per infortunio, Gioffre che è l'allenatore del Fano dice, anzi può inserire Manè al posto di Delli Carli, dovremo lottare e darci dentro finché ne avremo. Insomma vedremo come andrà a finire questa partita che è iniziata ma è stata interrotta quasi subito, vedremo insomma stasera come andrà. Non c'è altro? No, possiamo fermarci qui. Allora vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20.30 con il telegiornale, grazie per averci seguito, passate una buona giornata e arrivederci.